Non è il derby toscano più sentito dai tifosi, ma la situazione in classifica lo rende particolarmente interessante. Domenica alle 16, all'Arena Anconettani, il Pisa ospita il Grosseto, in uno dei big match della nonna giornata. I nerazzurri devono assolutamente riprendere la corsa verso la vetta, rallentata nell'ultime quattro giornate, in cui hanno racimolato appena tre punti. L'ultima vittoria risale ad un mese fa, mentre tra le mure amiche i ragazzi di Braglia non vincono dal 14 settembre. Il Pisa, terzo o meno due della vetta, può vantare due punti in più degli avversari, che però in trasferta hanno mostrato il meglio con sette punti conquistati su nove disponibili. Lo scorso anno, all'Arena terminò 0-0, ma il Grosseto riuscì ad imporsi al ritorno 3-1. Sfida nella sfida in attacco, con il Pisa che si affida d'Arma, sette gol in otto partite, ed il Grosseto che risponde con Biffman. Cinque reti in sette apparizioni. Con numeri del genere, le difese di sicuro non dormiranno sonni tranquilli. Sfida nella sfida in attacco, con il Pisa che si affidavano con il Pisa che si affidavano con il Pisa che si affidavano con il Pisa.